Proseguono le audizioni per il musical Caro Sone. Questa mattina al Palatenda Partenope Saldavinci, assieme al regista dello spettacolo e al produttore, hanno visionato decine di aspiranti maruzelle, le protagoniste del musical che dal prossimo autunno farà il suo debutto in teatro. Tantissime le ragazze procaci, ma anche eccellenti cantanti, che si sono alternate sul palco. Per tutte l'imperativo è saper cantare, ballare ed essere tanto sexy. Ai nostri microfoni Saldavinci ha cercato di spiegare quale deve essere la caratteristica della maruzella del 2013. Questo momento gira una bellezza straordinaria, perciò mi sembra lento, ma lo dico un'altra volta. Ci sono dei talenti e delle belle maruzelle, ma la maruzella dovrebbe essere una sola. La sceglieremo dal momento che ci emozionerà sia il suo aspetto artistico e anche, se vuoi, quello estetico. La maruzella del 2013 è la maruzella, non ha un'epoca ben precisa la maruzella, la maruzella è, non ha tempo.